Preghiera della Sera Signore Gesù, Tu non hai promesso ai Tuoi discepoli il successo in questo mondo, li hai avvertiti che li attendeva l'esperienza del negamento e della croce. Se anch'io fossi respinto a causa del Tuo nome, se lo fossero i miei familiari, fa che mi attacchi ancora più saldamente a Te, per contribuire alla salvezza anche di coloro che sono lontani da Te. Amen. Amen.